Continua la lotta dei sindaci contro il caro pedaggi dell'autostrada dei parchi a 24 ed a 25. Dal 3 di gennaio, giorno della prima manifestazione di protesta ad oggi, la schiera dei primi cittadini e degli amministratori abruzzesi e laziali che chiedono a gran voce la calmierazione delle tariffe autostradali sulla tratta Chieti-Roma e su quella Teramo-Roma, è arrivata quasi a quota 100. Tutti, il prossimo 19 di settembre, sono pronti a tornare in piazza nella capitale per dire no agli aumenti. L'ultimo, del 1 gennaio 2018, è stato addirittura del 13% e per chiedere al ministro delle infrastrutture Toninelli un intervento energico sulla concessionaria. L'autostrada non è un lusso, è un'infrastruttura fondamentale per collegare due regioni italiane, per collegare soprattutto l'Abruzzo alla capitale. È un'autostrada che non viene utilizzata per fini ludici, ma è un'autostrada che viene quotidianamente utilizzata da lavoratori che hanno necessità di percorrere e che non possono essere vessati quotidianamente così come viene fatto ogni volta che passano il casello. Chiediamo che ci sia una revisione delle tariffe, chiediamo che ci sia soprattutto adesso una revisione, soprattutto una corretta destinazione di ciò che viene incassato da autostrade perché ci siano servizi dedicati alle infrastrutture in termini di sicurezza. I nostri paesi, soprattutto quelli dell'entroterra, sono colpiti fortemente da questi ingiustificati aumenti e soprattutto non soltanto dagli aumenti che sono in vigore dal primo gennaio, ma proprio dall'intera tariffa perché la nostra è l'autostrada più cara d'Italia. Una battaglia animata dai principi anche di sicurezza delle autostrade. Come no, assolutamente. Noi sin dalla prima richiesta di accesso agli atti del gennaio abbiamo richiesto anche tutta la documentazione relativa alla manutenzione effettuata nel corso degli ultimi anni sulle autostrade.